Tutta Giuliano prega per Pasquale Caterino, ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Laschiana di Pozzuoli. Le condizioni del quarantenne sarebbero molto gravi. Pasquale è molto conosciuto in città, sempre presente alle manifestazioni per la tutela di Giuliano, anche nel movimento disoccupati del quale faceva parte. Ad ogni iniziativa partecipava, portando il suo contributo e sempre con gentilezza e garbo, spesso e volentieri si faceva portabandiera di caso e portavoce di deboli. A bordo di quella maledetta moto c'era lui insieme a Mario Muzzillo, poi deceduto in ospedale. Sulla salma del 26enne è stata disposta l'autopsia e per adesso non si conoscono ancora i risultati nella data delle esegue. Sul caso stanno indagando i vigili urbani di Qualiano che dovrebbero ricostruire l'intera dinamica dei fatti. Mario era ben voluto da tutti, operaio della gelateria di Corso Campano, era un ragazzo onesto e lavoratore. Ancora sconvolto il titolare del negozio di arridamenti nel quale i due hanno impattato con la motocicletta. Sentimmo un rumore, io ero a lavoro con un cliente, sono uscito quando ho sentito questo forte impatto e mi sono trovato questa scena di questa persona stesa a terra. Nessuno dei due si muoveva e uno delle due aveva il cranio aperto, chiazze di sangue a terra, quindi gli ho soccorsi e abbiamo subito, immediatamente chiamato i soccorsi che sono arrivati più o meno dopo una ventina di minuti. Ora tutti si stringono in preghiera intorno ai familiari di Pasquale, padre di una bimba nata da poco. La speranza è che riapri agli occhi e riabbracci i suoi cari.